Nuovi migranti in arrivo nell'Aretino. Come ogni provincia italiana, anche quella di Arezzo dovrà accoglierne 70, come previsto dalla circolare diramata dal Viminale e firmata da Mario Morcone, capo di battimento per le libertà civili ed immigrazione presso il Ministero dell'Interno. La circolare è stata diramata in conseguenza agli insistenti ed eccezionali sbarchi degli ultimi giorni per fronteggiare così al meglio una situazione che potrebbe diventare emergenziale. Ogni provincia italiana dovrà quindi accogliere 70 migranti e non vi sarà una ripartizione proporzionale in base alle disposizioni regionali. Ogni territorio dovrà infatti rispondere in ugual modo alla richiesta di accoglienza. Alcuni migranti hanno già fatto il loro arrivo nel territorio del comune di Arezzo non senza preoccupazione da parte dell'amministrazione. Ho appreso che nella notte sono arrivate ad Arezzo 25 profughi che si vanno ad aggiungere agli altri già accolti nel territorio comunale, commenta in una nota l'assessora alla sicurezza Barbara Maggi, una notizia che destra una certa preoccupazione considerando che il nostro comune ne ospita un numero che va già oltre la quota aspettante. Infatti Arezzo, qualora il numero degli immigrati all'interno della provincia dagli attuali passasse a 1.380, ne dovrebbe accogliere 220, mentre già adesso, prima degli arrivi di stanotte, il comune ne accoglieva 270. La situazione deve essere costantemente seguita affinché non si traduca in allarme ed inoltre per consentire il rispetto del principio della proporzionalità come previsto dalla direttiva del Ministero dell'Interno. Purtroppo ci sono ancora comuni della provincia che non ospitano profughi o un numero decisamente inferiore a quello previsto dal principio della proporzionalità. Il governo dal gennaio 2013 conclude la nota non considera il fenomeno come straordinario, ma la cronaca dice il contrario.